Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi andiamo a parlare di tutti i prodotti preferiti del 2018. Alcune cose sono riuscita a trovarle, altre cose erano terminate e le ho gettate. Quindi vediamo un po', partiamo dalla skin care, al make up, a tutto quello che ho amato in questo 2018. Allora partiamo subito dal corpo e dai capelli. Allora i prodotti per il corpo che ho adorato sono essenzialmente uno, cioè un bagnoschiuma e questo è il bagnoschiuma che ho adesso in casa perché la linea di questi Vidal io la amo. Questo qua è il Tropical Sunset ed è un bagnodoccia, ha un profumo che c'è vaniglia, mango, papaya, lime, di tutto e di più. Questo odore è bello fresco, mi lascia la pelle morbida, non la secca e le profumazioni rimangono addosso, anche svariate ore dopo essersi fatti la doccia e o il bagno. Per quanto riguarda invece creme, cremine e cremette, io non sono amante delle creme corpo e quindi raramente le utilizzo, quindi per il momento non ho nulla da farvi vedere. Se dovessi trovare la crema corpo che mi fa impazzire, ve la faccio vedere. Per quanto riguarda invece i capelli, ho due esempi e sono i Garnier Fructis, ovviamente shampoo e balsamo, sapete che io utilizzo sempre nella stessa linea sia il balsamo che lo shampoo e questi sono quelli per shampoo fortificante, indicato per i capelli colorati e tutta la linea di questi shampoo è fantastica per l'odore, per l'effetto che lascia sui capelli e poi questi due sono quelli che avete visto nell'ultimo video, però in bagno ci sono anche altri due di questi qua. Questi sono della testa nera e sono della linea Gliss Air Repair e sono balsamo e shampoo e sono fantastici per l'odore, per come districa i capelli, per come illumina i capelli e diciamo anche che il rapporto qualità-prezzo è fenomenale, quindi top, adorissimo. Sempre per i capelli, top dei top è il System Repair e sono dei cristalli liquidi, sta quasi terminando ma ce l'ho davvero da un botto di tempo e lo trovo fenomenale perché non appesantisce i capelli, non dà quell'effetto unto e bastano un paio di pump per tutta la capigliatura. Per quanto riguarda i capelli, nella top 2018 c'è indubbiamente la Schuma Mousse di Palette ed è questa qua, modella Ricci, leggera, definisce, non appesantisce, fantastica. Vado veloce perché qui ci mettiamo tutta la giornata. Altro prodotto top è il termoprotettore anch'esso di testa nera palette ed è un termoprotettore fantastico per l'odore e per la funzione che lui fa perché non appesantisce i capelli e non appiccica soprattutto le punte dei capelli quando lo si applica. Ne basta un poco, diciamo, ne basta la vostra lunghezza di capelli e quanti ne avete, si uniforma sulla capigliatura con una spazzola e il gioco è fatto. Altri prodotti per i capelli topissimi sono questi due di Pantene e sono degli spray notte, uno è nutriente e l'altro è protezione e riparazione istantanea, sono degli spray notturni, cioè se sapete che domani mattina dovete fare lo shampoo prendete questi due, uno o l'altro, li spruzzate e li lasciate così agire tutta la notte e poi fate lo shampoo il giorno successivo, anche se si dovrebbero utilizzare semplicemente come spray notturno e il giorno dopo vi fate la capigliatura come volete. Io invece li utilizzo come pre-shampoo perché utilizzati così senza fare lo shampoo dopo no, non mi piace l'effetto che fa, però sono fenomenali. Ultimi due per i capelli sono le fiale magiche di Adon che ho scoperto quest'anno e sono fantastiche. è un olio che si utilizza a caldo, cioè mentre fate lo shampoo lo lasciate lì nel lavandino, nella doccia, dovunque vi state facendo lo shampoo con l'acqua calda e lui è pronto. Basta agitarlo, metterlo sulla mano e stenderlo sui capelli. Illumina, districa e protegge i capelli. Top! Ultimo è lui, il Bye Bye Spuntatina di L'Oreal Elvive Dream Long. Costa quasi 5 euro, però io l'ho comprato parecchio tempo fa e diciamo che è qui. Quindi se ne usa davvero poco e fa quello che promette di fare, cioè si gira le doppie punte e sono visibilmente di meno. L'ultimo prodotto per i capelli è la Today Hair Spray Perfect Hold ed è una lacca che io adoro. Sono 400 ml di prodotto pagati 99 centesimi da Penny. Non ci sono parole. Leggera, non appesantisce, non appiccica e soprattutto è profumata tipo quelle del salone, belle, che ti senti che hai fatto la piega. Passiamo adesso alla skin care e come prodotti della skin care indubbiamente ci sono la Black Mask, questa la utilizzo soprattutto sul naso e sul mento. L'ho acquisita da Wish ma il marchio non riesco a capire qual è. Ah, forse è questo, se è Shields Natural Science. Non so quanta scienza ci può essere sui prodotti di Wish, però fa il suo dovere e non mi ha creato nessun tipo di allergia, quindi topissimo. Poi indubbiamente il Tea Tree, quando ci sono i brufoli, tampono così e lascio agire la notte senza mettere altre creme e cremine. Poi sempre per quanto riguarda maschere e quant'altro abbiamo indubbiamente la maschera argilla pura di L'Oreal e lo scrub, lo sugar scrub di L'Oreal. Queste due sono le mie preferite perché sono per la pelle mista, tendente al grasso e sono ottime. Poi abbiamo sempre come maschere queste qua della Seventh Heaven, poi questa è della Geomar, vi faccio vedere giusto il marchio perché poi ce ne sono altre che mi piacciono, però preferisco e sono le mie marche preferite. E c'è anche questa della Chabence, qualcosa del genere, però l'ho acquistata al DM, all'estero, quindi qui non le troviamo, quindi una volta che finiscono, bye bye. Sempre per quanto riguarda la pulizia del viso, acquistato qualche giorno fa ad oro, fenomenale, ed è della Topexan ed è un acquamus anti impunità. Praticamente si può utilizzare sia come detergente quotidiano che è direttamente sul viso truccato e quindi usarlo come acqua micellare in mousse. È fenomenale. Costicchia però provatela perché è top. Per quanto riguarda invece le creme e le cremine e le cremette, vabbè, contornocchi il My Skin di Essence, qualità prezzo fantastica e poi con l'applicatore così a pallina è fenomenale perché fa quell'effetto freddo che sgonfia subito le borse e invece come creme abbiamo l'Hydra Genius di L'Oreal e lo Skin Perfection di L'Oreal. Li ho acquistate quest'anno e sono diventate le mie migliori amiche. Lo metto tutti i giorni e guardate un po'. Questi saranno tre mesi forse che ce l'ho. Guardate. Cioè basta davvero una pump e idrata tutto il viso. Ok, passiamo adesso al make-up e a tutto ciò che riguarda il make-up. Allora, per struccare indubbiamente l'acqua micellare di Garnier. Ve ne avevo già parlato. Strucca, purifica e opacizza ed è vero. Strucca, purifica e lascia la pelle asciutta e opaca. Non vi nego che la utilizzo qualche volta anche dopo aver semplicemente lavato la faccia con lui e poi come tonico, invece di utilizzare il tonico, prendo un dischetto e utilizzo lei perché mi lascia la pelle davvero asciutta, opaca, pulita. Quindi questa sensazione di pulito adoro. E altro prodotto che mi piace molto per la skin care anche se non è il top dei top però apprezzo. Insieme ad altri prodotti fa il suo lavoro da solo. ed è il latte fiori rari di L'Oreal. È uno struccante per pelli normali e miste e l'unica pecca, ecco perché non tanto mi gusta perché sono parecchio tempo che ce l'ho questo qua e sono 400 ml ma ce n'è ancora di qua vedete un po' ecco da qua quindi mi brucicchia un po' la pelle però se utilizzo questo con un dischetto poi sciacquo la faccia e utilizzo l'acqua micellare mi piace l'effetto che lascia sulla pelle. Altra scoperta di questo 2018 diventata ufficialmente nelle mie salviettine preferite sono loro e sono le salviettine Fria e sono queste qua struccanti con tecnologia micellare sono fenomenali basta un solo fazzolettino per struccare il viso e ve lo strucca anche come si deve sono morbide, non irritano, non grappiano ne ho provate tante, ho provato quelle dei bambini e rimangono diciamo le mie preferite tipo le trodi comunque salviettine per i bambini quelle diciamo intime per il culottino io le uso per la faccia che uno può avere anche la faccia come quindi utilizza una cosa e un'altra quando però ho provato queste perché le avevo viste in un video di Annalisa Superstar ho detto vabbè se le trovo le provo sono le salviettine della vita costano diciamo le ho pagate tipo 1,70 euro così sono 25 però tu ne usi una e hai fatto 25 make up mentre queste qua che sono anche loro struccanti non sono quelle per i neonati no diciamo che tra quelle dei neonati e quelle funzionano meglio quelle dei bambini ma queste le batto tutte ok passiamo adesso al make up e innanzitutto vi voglio far vedere la spugnettina questa è quella che ho ricevuto da come omaggio da beauty bay se non erro o pink panda credo sia beauty bay sì adoro fenomenale la marca non la ricordo ma non è una beauty blender ma non ha nulla da invidiare passiamo adesso al vero e proprio make up allora come basi indubbiamente abbiamo il you better work di essence il farsali rose gold elixir che utilizzo certe volte sotto il fondotinta per dare un effetto un po' più glow e come primer per gli occhi è questo qui di make up revolution che ho trovato all'interno del calendario dell'avvento se non ricordo male e l'ho adorato subito e quindi questi tre sono i miei primer e basi preferiti andiamo avanti con i fondotinta come fondotinta abbiamo lui che è l'unfaible 24 ore matt che è fenomenale soprattutto per me che faccio il muro cioè tu lo metti là la mattina e la sera lo devi andare a struccare perché se lo metti come si deve e lo fissi perfettamente lui rimane là è capitato anche di non fissare il fondotinta però con l'applicazione di un po' di terra un po' di hip il fondotinta non si è spostato quindi la qualità prezzo di questo fondotinta è fenomenale peccato che il mio è quasi finito e quindi vado a riprendere subito un altro altro fondotinta new entry è il Concealer Define di Makeup Revolution io lo amo perché corregge e uniforma allo stesso tempo quindi si può utilizzare tranquillamente lui perché ha una coprenza molto alta solo che l'unica pecca per il mio viso è che mi secca la pelle quindi quando vado ad utilizzare questo spesso e volentieri metto prima una crema idratante poi il primer e in modo tale da avere sotto la giusta copertura perché sennò me la secca un po' però non voglio disperare e appena possibile voglio provare altri fondotinta di Makeup Revolution perché sono ottimi poi 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 abbiamo le polveri e con polvere perché tu vuoi stare così a vista ecco e come polvere abbiamo sempre di Makeup Revolution abbiamo la Luxury Powder che è appunto questa è quella Barara Powder che è un una cipria che si può utilizzare sia per il baking che è semplicemente per settare la base e la amo ok andiamo veloci perché durerà un'eternità questo video già lo so però va bene quindi abbiamo poi questa qui della Debbie è stata una Bronzig Power che io ho amato e ho anche rotto e ho anche finito perché c'è solo questo giro qui l'ho utilizzata davvero tanto sia per settare che è semplicemente una spolverata così per dare un po' di colorito e vai bellissima adoro come terra abbiamo due questa qui Lady Venezia come vedete ha il buco per quanto l'ho utilizzata ed è una terra abbronzante però è opaca quindi è un po' freddina e io la utilizzo per il contouring però da quando è arrivata lei sto utilizzando spesso e volentieri la terra contenuta in questo Ultra Scut and Contour Kit di Makeup Revolution però questa qua non si abbandona perché faccio un po' uno e un po' l'altro così non si offendono non litigano e niente di tutto questo come blush invece i miei due preferiti sono questo qua di Debbie lo utilizzo sempre lo utilizzo sempre ce n'è ancora un botto però prima o poi finirai e comprerò un altro anche perché adesso ho quelli che ho preso da Beauty Bay quindi sono un bel po' rifornita e sto amando anche il blush contenuto all'interno di questa palettina che è fenomenale poi rimaniamo su cose del viso sì rimaniamo su cose del viso e gli illuminanti preferiti sono tre allora questo di questa palettina che ho utilizzato e di solito mixo questi due con il blush direttamente quando vado di fretta non ho tempo di mettere tutto illuminante e quant'altro quindi bagno un po' blush e illuminante vai sei luminosa e radiosa e altri due sono questo qua di Makeup Revolution che è il Golden Light ed è davvero 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 wow cioè adoro questo illuminante e poi abbiamo un'altra palette di illuminanti che mi è stata regalata ed è questa qua Highlight ed è una palette di illuminanti e questa è di Primark non ve lo dico neanche cioè compratela e vedete i colori di questa palette fenomenale ok adesso passiamo agli occhi allora come cose riguardanti gli occhi abbiamo eyeliner preferito è il Super Fine di Essence avevo utilizzato altri eyeliner in penna di Essence ma quando ho provato questo è stato amore a prima vista adesso sto cercando semplicemente di trovare un altro eyeliner che abbia una punta leggermente più piccolina da essere più precisi e evitare che si pieghi quando faccio questo movimento però scrive è bello dura se lo metto al mattino devo struccarlo la sera non c'è bisogno di ritoccarlo o altro la qualità prezzo il rapporto è fenomenale quindi per quanto riguarda invece le sopracciglia ho questa qua della Carisma Cosmetic con vitamina E che è una semplicissima matita nera che è una matita occhi io però la utilizzo come matita per le sopracciglia perché non ho trovato nessuna pomata o prodotto per le sopracciglia che si avvicinasse non mi facesse quell'effetto sopracciglia la caccamo che non mi piace quindi appena trovo un sostituto questa va direttamente nel cristino matita per gli occhi è sempre lei ed è della collection professional ed è una matita molto semplice per gli occhi e al momento sto utilizzando lei però ho utilizzato anche credo era un kajal di essence che ho adorato solo che non l'ho più trovato e adesso sto cercando di trovare qualche altra marca che faccia una matita bella leggera scrivente morbidissima in modo tale da poter fare un paragone con questa però mi trovo bene quindi va bene così per quanto riguarda invece i mascara abbiamo lui vi faccio vedere lui perché i mascara l'oreal sono uno più bello dell'altro io li utilizzo davvero tanto non so se qui ne ho un altro di l'oreal perché diciamo ho portato allo sfinimento no l'ho proprio buttato perché era completamente finito però io i mascara di l'oreal li adoro l'unica pecca di questo qua in particolare che non mi piace è lo scovolino che mi punge cioè se lo metto troppo vicino mi punge però ho trovato la soluzione utilizzo uno scovolino di un altro eyeliner di un altro mascara scusate lavato e utilizzo lui però tutti i mascara l'oreal sono i miei preferiti come anche i mascara di essence che non hanno nulla da invidiare a un mascara di l'oreal cioè abbiamo due prezzi totalmente diversi qui stiamo parlando di 3 euro qui stiamo parlando di 10 11 euro però questi di essence non hanno nulla da invidiare a quelli di l'oreal infatti sto cercando e sto pensando di fare un po' una scorticina e di provarli e vedere qual è quello più fantasmagorico della linea essence ok questi sono appunto i mascara e preferiti del 2018 e adesso passiamo allora come balsamo labbra utilizzo lui che ho preso da beauty bay che è un semplicissimo burro di cacao che utilizzo però quando faccio un make up lo metto all'inizio del make up lo lascio libero ad assorbire in modo tale che quando arriverò al rossetto le labbra saranno idratate ed è della eos e al profumo di pesca se non erro l'ho pagato circa 2 euro 2-3 euro a parte che carino che ho detto che terino a parte che poi è top arriviamo adesso agli occhi vi faccio vedere tutto quello che utilizzavo prima perché ero povera ero povera allora le mie palettine preferite sono in ordine di arrivo nella mia vita sono questa qua che è una palette di quelle che si compongono praticamente no voi scegliete quello che più vi aggrada e vi fate la vostra palettina questa è della Peggy Sage c'è una confezione grande tu puoi dentro trovi questo qua che è anche uno specchio enorme e ti scegli appunto i colori da mettere all'interno io questa l'avevo fatta in questo modo così un po' nude un po' shimmer con il blush era abbastanza completa infatti quando viaggiavo capitava che dovessi spostarmi portavo soltanto lei ed ero a posto altra palette preferita è della pop feel e l'ho acquistata da wish è questa cioè le ho utilizzate i colori allora gli unici forse colori che ne ho mai utilizzato sono questo 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 e questo non lo utilizzate semplicemente perché quando si fa faccio un makeup o faccio qualcosa la prima palette che mi viene in mente prendo quindi se mi serve un colore chiaro non vado mai a prendere questa dalla quella dalla cerco di trovare una palette che abbia tutto all'interno però questa palette scrive da paura si sfuma benissimo e l'ho pagata un euro altro ombrettino preferito è questo qua di l'oreal ed è un marroncino con dei micro 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 glitter molto leggero che utilizzo anche semplicemente quando vado di fretta mascara un po' di questo ombretto e vai mi piace mi piace molto questo qua e appena trovo altri colori voglio provarli e vedere un po' semmai qualche colore un po' più particolare visto perché visto che diciamo quando si fanno dei video su youtube non puoi fare sempre sti make up un po' così devi anche eccedere ogni tanto quindi sempre questi rumori paranormali in questa camera va bene altra palettina vi faccio vedere questo poi vi faccio vedere il pezzo forte che è amore e questa qua che ho questa non ricordo se l'abbiamo trovata sì l'abbiamo trovata nel calendario dell'avvento ed è di make up revolution ed è questa qua dove abbiamo tutti i colori nude matte e con questa palettina qua puoi fare un make up completo perché hai la parte scura per intensificare hai i colori di base hai il colore di transizione sono piccole utili e scriventi al massimo quindi arriviamo alla fine di questo make up tour barra skin barra body barra hair collection 2018 e non potevo che fa non farvi vedere questa palette qua allora la palette di Anastasia Beverly la sub sculptor è stata uno dei regali che mi sono fatta al compleanno mi sono auto regalata due palette che è quella di Too Faced la sweet peach è questa qua allora quando io ho preso questa palettina qui dopo un po' di tempo non mi ricordavo più se fosse la subscultor o la norvina norvina vabbè comunque c'è una palette molto simile a questa adesso non mi ricordo il nome quando sono andata a vedere i video su youtube di recensioni varie e quant'altro ho detto ma io ho preso questi colori ho preso questa cosa mi ero un po' demoralizzata solo perché stavo vedendo dei video che non riguardavano questa quando poi è arrivato il pacco da sephora e ho aperto ok la sweet peach si l'ho aperta è molto bella però credo sia più indicata per tipo primavera estate quando ho aperto questa qua a parte cioè vuoi mettere il packaging di veluto così a parte che allora cioè non rende dalla videocamera però ragazzi questi colori questa palette io l'ho utilizzata tutta questi due colori questo è il mio preferito questo e questo sono i miei preferiti no non si può cioè non si può descrivere non non lo so cioè io mi vorrei vorrei anche provare allora facciamo così mettiamo la mano qua e facciamo degli swatch allora questo e questo qua c'è ragazzi di che cosa stiamo parlando no ditemi voi di che cosa stiamo parlando guardate un po' qui cioè è fenomenale io quando l'ho vista pensavo che fosse un diciamo una palette più indicata per chi avesse esperienza con il makeup perché comunque pensavo fossero difficili da sfumare che fosse difficile da utilizzare invece mi sono sbagliata l'unica cortezza che ho fatto ho fatto un primo makeup all'inizio quando l'ho avuta e ho subito notato che quando andavo a struccare la palpebra restava un po' con un po' di colore l'unica cortezza non solo per questa ma per tutti i makeup in generale è quello di utilizzare un primer o comunque una base io di solito quando utilizzo questa non utilizzo neanche il primer soltanto utilizzo anche un po' di correttore che mi protegge la palpebra e quando applico questi colori li intensifica maggiormente quindi raga cioè questa è la palette decisamente preferita del 2018 da quando l'ho comprata la utilizzo sempre cioè è una spesa che è una spesa però la utilizzo sempre sia per fare i video di youtube sia per uscire sia per fare un makeup molto veloce però bello da vedere non ci sono parole topissima ma ci sto lavorando perché adesso ho visto un'altra preda che devo assolutamente avere ci stiamo lavorando ce la farò sto preparando e sto mettendo dei risparmi da parte e io la otterrò scrivetemi nei commenti se pensate di cosa sto parlando scrivetelo ok raga l'apocalisse dei prodotti finisce qui questo video sarà lunghissimo già lo so però ci tenevo a fare questo video per non fare un video di makeup anche oggi ho detto vabbè facciamo qualcosa un po' più scialla un po' più così parliamo chiacchieriamo e facciamo una top di tutti i prodotti del 2018 che ho adorato e niente io adesso vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video anche se non so se in questi giorni di festa pubblicherò qualcosa o mi darò un attimo una calmata quindi mi godo queste feste o faccio un vlog non lo so vediamo un po' perché sono un po' leggermente stanca però comunque noi ci teniamo aggiornati male che vada preparo un video e ve lo sparo in quei giorni di festa quindi mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi al canale di spolliciare se il video vi è piaciuto commentate e fatemi sapere quali sono i vostri prodotti preferiti di questo 2018 e niente ci vediamo al prossimo video che vi è piaciuto